Ciao a tutti da DiegoLitecnofan.it Oggi vi mostro questa lampada notturna, davvero molto molto carina Si chiama Fantasy Night Light, ha un costo di 10€ Si acquista su Gearbest, il link lo trovate poi sotto la descrizione del video Che si controlla semplicemente con il tocco delle nostre mani Con la sola imposizione no, bisogna toccarla comunque È una lampada che è alimentata da una batteria interna Si ricarica attraverso la porta USB Qua sotto abbiamo anche un pulsante di accensione e spegnimento E di attivazione di una modalità che poi vi faccio vedere come funziona Ed ha una durata che va dalle 4 alle 10 ore Ma può essere anche sempre utilizzata alimentata con il cavetto Cavetto che è comunque compreso nella confezione Come ho detto è una lampada touch Cosa vuol dire? Vuol dire che per accenderla bisognerà appoggiare il dito Vedete, tenere premuto e lei si attiverà Ci sono 7 tipi di illuminazione diversa E abbiamo anche la possibilità di passare da un'illuminazione all'altra Semplicemente toccando Vedete, queste sono le varie modalità Questo è una specie di lampada con colori relax Da magari utilizzare alla sera Vediamo, cambiamo Questo è una specie di gradiente Cambia colore da sinistra verso destra Vedete, mostra diversi tipi di colori Poi abbiamo anche la modalità notturna Abbiamo questa modalità che non fa altro che fare una rotazione Vedete, di illuminazione Abbiamo questo gradiente davvero molto carino e molto bello Che sicuramente creerà molta atmosfera E poi abbiamo anche la possibilità di aumentare e diminuire la luminosità Semplicemente tenendo premuto Vedete che adesso si sta piano piano affievolendo E questa è una funzione davvero molto comoda Perché di notte possiamo impostare l'intensità che vogliamo E se anche voi avete un bambino O dorme in camera con voi Oppure che vuole una luce notturna Questa è davvero eccezionale Poi abbiamo anche la modalità shake Basterà premere leggermente il tasto sotto E lui cambierà colore ogni volta che la scuotiamo Sinceramente non so a cosa possa servire Però c'è anche questa modalità Vedete, tac tac Per riuscire da questa modalità Basterà poi ritoccarla Per spegnerla Un doppio tappo E vedete, si spegne Come vedete è un oggetto davvero molto carino Molto simpatico Fa compagnia È una luce di cortesia Può essere utilizzata veramente per qualsiasi utilizzo E come ho detto Il prezzo è di appena 10 euro 10 euro e rotti Come si dice da le mie parti E vedete si acquista su Gearbest La spedizione è gratuita Vi arriva tramite posta Con un tempo diciamo di spedizione Di circa 15-20 giorni lavorativi Non si deve fare assicurazione né niente Non ce la pagare nessun tipo di dogana E ragazzi Io La accendo Ve la consiglio Ciao Da Diego Grazie a tutti Ciao 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 Grazie.